Sì Valentina, sono Gianluca Federici, Radio Circuito 29, ti do carta bianca, eccola qua. La novità qual è? La novità è che in questi giorni ci stiamo impegnando su tutti i fronti per informare gli ascoltatori, dare a loro rassicurazioni, dare loro indicazioni importanti affinché il periodo possa passare nel miglior modo possibile. Lo stiamo facendo anche dal punto di vista musicale, mettendo anche un po' di allegria in questo momento di particolare delicatezza generale. È tutto, buon lavoro, grazie Valentina e a presto.